Mercoledì alle 15.30 l'ultimo saluto a Giuseppe Bortolussi, mancato sabato sera. La cerimonia si terrà nella chiesa del suo paese, quello di Camponogara, in provincia di Venezia. La morte di Giuseppe Bortolussi ha lasciato incredulità e dolore per un uomo che è sempre stato politicamente impegnato, appartenente alle file della sinistra, ma con toni decisamente democratici e vicino ad artigiani, imprenditori e partite IVA. Un uomo di classe, determinato dai toni chiari e decisi. Numerose le sue indagini nelle quali ha fatto chiaramente emergere gli sprechi del paese. Segretario della CGA di Mestre ha evidenziato numeri e percentuali del sistema italiano nei vari settori. Tantissimi messaggi di cordoglio espressi in queste ore, il quadro che emerge è la grande stima per quest'uomo.